quasi gaming stagione 5 wendell carter jr ascolta wendell carter allora te non garbi a me e io non garbo a te va bene però ci sono migliaia decine di migliaia di persone che hanno votato petenetti in squadra e quindi io ti faccio una promessa wendell carter jr che te finirai su tutti i ballottaggi da qui alla fine dell'anno tutte le volte che noi si pescherà un alla grande va bene io ti ci rimetto loro ti ripoteranno io ti ci rimetto loro ti ripoteranno e si va avanti con questo trick e ballacche per tutta la settimana per tutto l'anno va bene te non hai niente del centro che vorrei io non difendi non pigli rimbarzi non veniamo fuori che a meno è una roba intelligente che può valere per un centro niente un giocatore inutile però giocherai titolare con rudy a piangere vederli insieme rudy gobert e wendell carter io gli ho dato 24 minuti a testa perché i nostri veri lunghi sono pennello 24 minuti dalla panchina eccetto e però è da che riesco neanche a parlare bada questi e vanno presi questi poi ho dato 36 minuti a wiggins 36 minuti a murray e 24 minuti a immanuel sono il telefono dalla panchina a yeye 24 minuti e poi c'è il granchio e c'è che sono finiti c'è con e senza baug ha ma preso dall'astio non vi avevo manco detto chi è che ha vinto portland ha vinto portland 80 72 è stata una partita dove gli attacchi ci stavano con supplementare e questi vanno sempre supplementari e purtroppo e sofforti tutte e due e vanno sempre supplementari ma soprattutto c'è una cosa è questa ribattuti io che che questo fa sempre a nestro ora a questo punto io spero prima o poi di incontrarlo anche noi ma questo fa veramente sempre a nestro in due settimane di fila ha battuto due volte il record all time di punti insegnati su singola partita il cattivo di batman 37 punti miglior organizzatore della partita nove rimbarsi di wise ma cinese proprio non ha mai visto niente lui dell'nba negli assist 5 di dorte 5 di oladipo un po di gente con un recupero e una stoppata sia di wise man che di isaiah frankenstein e allora nel giorno forse più felice per l'arrivo in italia da qualche parte in italia non si sa ancora bene dove di preciso di di dico io purtroppo qui è arrivato chi dite voi è malefico d'un wendell carter junior manco lo inquadrano bada dallo schifo che gli ha fatto anche a loro però è purtroppo migliaia e migliaia di voi si sono mobilitati per avere questa copia della sciagura e della vergogna sotto canestro questo è il nostro vintetto che sugli esterni non sarebbe neanche marvagio il problema è che sotto ci sono chip e cioppe e siamo passati da dai gemelli del destino a questi due che che sembrano un film di di owen wilson di tanto tempo fa con quell'altro va bene e questo è jamal murray questa è una dita importante per noi perché se si vince si va secondi in classifica secondi in classifica non siamo mai stati praticamente secondi in classifica e si comincia a sfidare quelli buoni manco la palla a due ti hai vinto rudy gobert ma sai io sono andato a vedere perché non mi ricordavo ma owen wilson l'ha mai fatto scemo e più scemo secondo me è il firme io mi ricordavo che c'era owen wilson ma non lo sto trovando più boh vabbè allora ragazzi fate di vostro meglio io non so che guardalo guardalo lo vedi lo vedi lo vedi è lì sotto pronto a non difendere io già l'ho visto subito l'andazzo bada quest'altro io non lo so veramente fate di vostro meglio fino a che non entrano pennello eccetto ragazzi e poi si comincerà a giocare la partita immanuel quickley peggiamma al murray che c'ha una meca sta fuori dalla linea di tiro da tre ma cosa ci fa là in quell'angolo noi manco l'occhiali gli hanno messo quest'anno rudy gobert fino in fondo due ahimeno ma ce l'ha o non ce l'ha l'occhiali secondo me non ce l'ha come mai non c'ha l'occhiali vabbè hanno provato a mascherarlo capito hanno provato a fare ma io lo riconosco è sempre lui uno e trino wendel carter e anche giugno bravo rudy gobert che l'hai stoppato da dietro ma te rudy gobert un minimo quanto e niente perché capito c'hai rimbarsi c'hai le le la difesa lui non ti ha mai visto giocare quindi sembri anche buono quell'altro non c'ha neanche quello immanuel con l'infrazione di passi vandamme no io non lo posso proprio vedere è una roba che guarda ma dove sei andato a aiutare chi io 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 ho un campionato molto lungo sarà un campionato lunghissimo lunghi immanuel 2 4 a 2 e loro non hanno ancora capito è perché vandamme laggiù nell'angolo vedi primo pallone che tocca ma da fermo perché loro hanno capito e se attaccassero l'anello debole della catena capito sarebbero due o tre punti a tutte le azioni i power ranger l'errore ha preso anche il rimbarzo ora io non ti vorrei dire già malmarrei di innescare un gioco a due perché ho paura di quale dei due sale a portare il blocco quickly in uscita da tre punti neanche il rimbarzo è un attacco vogliamo parlare del fatto che siamo a metà di primo quarto e non ha ancora fatto una cosa buona io non cioè non è che dice ma te parti prevenuto sì io parto prevenuto perché sono qua bravo bada che ringollata e gli hai tirato da dietro sono quattro anni che ci gioco contro sicché ho il diritto di partire prevenuto l'hai fatto bene codesto l'hai fatto bene hai corso il campo sai correre e masticare i chewinggum come diceva coso il rimbarzo di rudy gobert forza ragazzi che comunque nonostante la sciagura e la iattura siamo avanti 6 a 2 e non vuol di nulla perché insomma si sa che si appano dei parziali poi che roba da chiodi jamal murray che è successo fallo carmelo però vedi che rudy rudy gobert mi è un po più rinfrancato da non essere il bersaglio ultimo e terminale di tutte le mie e vedi ora che c'è uno peggio di lui mi sembra quasi un giocatore quickly intanto né dalla punta per wiggins mancano 6 secondi allo scadere dei 24 deve forzare wiggins dalla media sarebbe anche il suo tiro vandamme perché quell'altro è andato via giustamente lui deve tornare in difesa è in difesa deve a casa devi tornare ma può un allenatore presidente quello che so coarsia si osa io sia tifare contro un proprio giocatore pole perché il proprio giocatore è wendell carter junior e non si venga fuori e non gli ho dato spazio è titolare 24 minuti pari opportunità nei confronti di tutti lunghi anche se io ho un istinto benevolo nei confronti di due dei quattro lunghi rudy gobert addirittura all'isolamento il quarto di campo no si va da wiggins un paio di virate sul fondo murray quickly mancano a 5 secondi allo scadere dei 24 deve forzare immanuel da tre punti niente niente mai loro hanno turner occhio a turner anche perché io non volevo dire ma se si vince siamo secondi se si perde siamo ultimi perché la piano 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 con questa mezza transizione si protegge col corpo fa le bisciancole ne mette due wiggins ma poi c'ha questo questo caschetto con queste cose pare uno sturm entruppen ma come come chi è quello che ti pull pull fortunatamente è entrato quello bono ora non ho visto se è uscito quello marcio ma è entrato sicuramente quello bono è entrato anche il granchio c'è rudy gobert che riceve da lì e poi si sono usciti tutti forza ragazzi è il nostro momento cetto ancora per aieie che tocca il primo pallone c'ha una mezza idea poi ma che cos'è il ballo del mattone ma se si è glicciato si è laggato scettola qualunque i gioca gioie e batti in aria le mani e fai come cetone io io succede della roba che onestamente neanche non l'avessi pagata quanto l'ho pagata sei stato spazzato via e io ragionavo sopra ogni tentativo di non fatela vedere ma ragazzi è normale è normale perché aieie è lì per darci qualche cosa in attacco nei minuti in cui se noi non lo si cavalca in attacco poi è normale che in difesa si possa soffrire bello ancora il taglio backdoor peccetto che stavolta non lagga 12-9 comunque pare a him don't come lì io mi aspettavo che venissero fuori coi due sul server da un momento all'altro 12-9 siamo all'ultimi diebo 10 secondi di primo quarto in cui sono successe delle cose turche l'errore da parte di Jordan Poole il rimbarso di Senza Baug che in frattempo è entrato questa è la mia squadra che purtroppo c'è anche no è pennellone questa è la mia squadra questi li riconoscio li riconoscio non so neanche più parlare guarda che è difficile questo è il comparso dal nulla e di quest'altra pure è difficile la mia posizione in questo ma poi sta camminando sopra il palo ma è difficile è difficilissima questa stagione per me ecco ecco mi sembrava troppo bello infatti sono durati tre azioni e ora hanno rimeso subito però quantomeno è rimasto è rimasto pennello attacca ancora Murray ci sarebbe Aieie attenzione perché riceve è accoppiato contro quello che dovrebbe assomigliare a Misic il blocco di Olmgren Aieie metà posto i piedi dentro e fuori l'impiegato di Catasto ci ha preso il rimbarso ma 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 come fai a fischiare questa roba qui è chiaro e se fischi questa roba qui poi quello qui gli rimette Wendel Carter non aspetta altro se gli dai anche l'aire attenzione perché con senza baughe e gliela picchietta in un piede che viene proprio uno spettacolo ragazzi siamo in un momento difficile perché non c'era abito è arrivato da dietro pennello e l'ha pennellato e si recupera un altro pallone in difesa dagliela qua giù nell'ang prima gliela devi dare in mezzo a transizione perché quello fa arresto e tiro da tre punti Murray era fallo Carmelo che non sei altro ora loro se solo sapete guarda guarda che giocatore tremendo gliela ha toccata due volte o mai Campetto se fa arresto e tiro da tre io perdi capo va fino in fondo ma veramente ha provato a metterlo nel poster va bene va bene uguale e vedi vedi e poi la pallacanestro ti premia in queste situazioni ma guarda come spinge in mezzo a transizione arresto che squadra che sarebbe questa lì potessi mettere tutti i titolari badalo guardalo lì roba tremenda è sempre pronto è lì come l'avvortoio sulla spagliera occhio accetto perché viene bene attoppato in questa situazione o pop gadget eccetto forza comunque senza pietà eh senza riflessione a Yeye Brazov MIGARVA bravo senza BAUG attacca si gira si svita si appoggia pull e loro continuano a picchiettare i palloni dentro ma badai questo è arto è artissimo però è almeno uno stianto tiraglielo occhio 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 che si sta appostando guarda quanti chilometri di spazio che regala Jamal Murray più 4 cerchiamo di non far interrompere mai bad and bid cerchiamo di non far interrompere mai il gioco ragazzi perché c'è quello pronto sul cubo dei cambi è difficile ma arriva il pallone dentro guarda che connection a Yeye Brazov con e senza BAUG nella realtà questo qui avrebbe tirato io mi rendo conto magari non chiappava niente però è no gliel'hai fischiato io ritengo questo fischio un affronto a Mutombo e a tutta la sua stirpe un arbero genealogico anche molto prolifico vero per quel che bravo Rashid eh ma non fai mai in tempo non fai mai in tempo a far succedere una cosa buona che arriva a Repeja si impossessa della panchina cambia tutte e cinque e rientrano cippe e cioppe però fortunatamente è rimasto a Yeye questa cosa un minimo di soddisfazione me la lascia vediamo se rie... il canestro è di là è da quell'altra parte il canestro almeno la direzione di canestro Wiggins sul blocco di Gobert attacca ancora Wiggins poi si spazia mancano tre secondi prova ad andare fino a poi però quello è Miles Turner io non ve lo dico neanche a chi deve andare questo pallone con un secondo e sette sul cronometro dei ventiquattro Rudy Gobert non te lo dico neanche e invece già mi pare che non ci avete capito una mazza perché non si muove si va da Wiggins da metà campo niente non so sinceramente come si faccia essa avanti ma per il momento ci siamo anche se il Power Ranger miete subito vendetta dall'angolo pari per forza di Ose aggiunge pari per forza di Ose perché vedrai e sono tornati quei due lì... eh... 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 aveva saltato mezz'ora fa ragazzi serviamolo perché sta per uscire io li conosco I know my Sheehan quello sta per uscire cominciamo a dargli un po' di palloni perché se no è stato inutile mettili un campo Wiggins dalla punta ultimi cinque secondi gli porta un blocco a carte giù... bravo Wiggins bravo guarda grazie vedi vedi a me questa cosa erano lui e Vucevic che facevano questa cosa tremenda qui cioè stanno lì sotto a costo di pigliare i tre secondi in area e tirano giù tutti i rimbarzi e li cascano in mano poi arrivi in fondo vai e vedi ho preso nove rimbarzi beh per forza poi mi passerà eh forse durante il corso della stagione ma oggi bisogna che mi sfoghi alla prima uscita chi è che non ha difeso? Wiggins giustamente per ora lo stiamo servendo poco in attacco però come l'impressione questa cosa non durerà Immanuel dalla media ancora più tre siete più arti d'una casa fra tutte e due dove siete andati su questo pic... ma che succede? ma chi era? chi era e ha fatto questa cosa tremenda? e non gliela danno? Carmelo la signorina la monica no la cinese ma che sta succedendo? ma non sono andati neanche a rivederla ma quella ha fatto... ma chi era? ma perché? ma in replay come funziona? fammi andare indietro era Immanuel il povero Immanuel ha una mano come Jokic ma scusa eh come si... come si... eh no era bello il rosso vada lì era bello il rosso malefico guarda 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 bastava bastava se io guarda ecco qui bastava qui guarda guarda non ho neanche parole ma poi perché io tutte le volte ma non era non bastava Wendell Carter Junior non bastava Rudy Gobert anche questa tutte le morte io secondo me è un complotto io ormai bada questo con questo fiocchino pare pillon ma lo apisci ma lo apisci io non credo non credo di poter riuscire a portare in fondo questa stagione io ve lo dico anche perché incombe la Trimurti è risaputo io l'ho detto l'ho promesso che se dovesse venissi a fermare la Trimurti quello è proprio un segno che la notte dei tempi incombe e quindi la stagione viene annullata di default seduta stante appena dovesse succedere una osa di genere quickly attacca contro i Power Rangers si spazia sbaglia Turner ma quanto sta io non so neanche quanto sta non riesco neanche a seguire stiamo avanti di uno questo fa finta di difendere il rimbarso di Wiggins se ne ha picchiettata in un piede l'unio è ancora un pochino di cervello residuo in tutta la squadra ha preso e gliel'ha picchiettata in un piede a quell'altro capisci come 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 ora questi questi sono in un mismatch se ne accorgeranno se ne sono accorti noi si perde perché non si può proprio fare altrimenti cioè non è proprio possibile prevedibile il contrario Wiggins ancora ha una ricezione difficoltosa si va da ma guarda guarda non la tiene neanche in mano non la tiene neanche in mano tripla Immanuel non la viene potevi anche sartare eh s'è rotto s'è rotto fermi s'è rotto è finita ho vinto che è successo ma no il replay io voglio capire che è successo s'è rotto non s'è rotto entra non può entrare s'è rotto dimmi s'è rotto dimmi s'è rotto dimmi s'è rotto ma che ma guardalo era fallo in attacca e basta e rizzati niente ragazzi niente mi ci hanno fatto credere ma purtroppo mi fanno la bocchi ancora Jamal Murray che attacca siamo avanti di due lo step back nooo e però se fai il balletto di danza come James Sarden poi bisogna che tu faccia canestro capisci e se no io rimango 27 e 25 siamo avanti di due manca ancora una vita di sofferenza i power range e il blocco di Van Damme mancano due secondi devono forzare quello non aiuta se ne piglia due io non so che cosa stesse guardando ma di sicuro non ha chiuso sui piccherò questo è poco ma sicuro 27 pari tre minuti e spiccioli alla fine di terzo periodo Immanuel in tentativo goffo di catapulta infernale e questo che se la ripicchietta oggi si è ricominciato a picchiettarsela sui piedi come l'anno scorso eh beh proprio la giornata si viene bene sarà sempre un caso eh che è capitato proprio oggi questa ossa sarà sicuramente un caso però è capitato proprio oggi siamo sotto 29 27 e siamo ancora con i suddetti presunti titolari e fortunatamente c'è Immanuel Quickley da per tornare quello buono e il problema è che un po' figurati se fa un cambio qualcosa va bene e power ranger attacca nell'angolo per Van Damme questo lo guarda da lontano vedi che cosa sta facendo è lì che pari i choose player prima dell'inizio della partita tripla di pool ma perché ti sei accartocciato ora te dirai in punta di piedi capisci e neanche volessi svegliare il pubblico guarda in punta di piedi ma vabbè ora siamo con i titolari presunti e in più agli ai posto di Jamal Murray e quindi credo che sia il nostro principale terminale offensivo di sicuro nessuno è un principale terminale difensivo perché questo c'ha avuto proprio il corridoio spianato piano wiggins piano non ti addentrare non ti aveva forse era meglio se ti addentravi e se ti avventuravi se l'alternativa doveva essere i pick and roll tra i lunghi come duncan e robinson ma manco un'unghia di duncan e robinson roba una roba tremenda a me mi è venuta anche la febbre dalla disperazione chi è questo? Art? siamo sotto ma bene eh? bravo Immanuel sono quasi commosso Immanuel siamo aggrappati a una partita che notoriamente non possiamo vincere essendo questi i nostri titolari però comunque per il momento stiamo lottando wiggins sulla mezza transizione c'aveva una mezza idea di servire a Ieglie poi si va da Quicli ancora Wiggins taglia Gobert riceve non sa di che fassene riapre per Wiggins tre punti importanti c'era il fallo non l'ha fistiato siamo avanti e sono tutti pronti per entrare però eh non entrano e ora sta finendo il quarto per cui non la vedo messa bene eeeh non sarà poco se uno gli fa fa canestro e fallo si va da Grant contro Wiggins la virata attacca nessuno che aiuta due di Grant nessuno ho detto nessuno ma è molto evidente chi è che non aveva aiutato Wiggins mancano dieci secondi alla fine di terzo periodo il pallone in punta ancora ci sarebbe Quicli dai blocchi ultimi quattro secondi arrivano a portargli un blocco Wiggins da tre punti fondamentale dentro e fuori siamo sotto questi questi guardano che pezze sono l'impiegato di Catasto è quello che assomiglia a Misic e noi si perde giustamente si perde ora abbiamo un bel quintetto ragazzi tutta la nostra panchina in campo questo è il momento buono per provare a fare qualche bravo l'hai travorto preferisco Veta Osaui rispetto a fargliene fare due andando via perché poi c'è sempre Rashid non è tutta la panchina in realtà perché non c'è senza Baug e c'è e c'è già Mal Murray però va bene insomma in questo momento non ci si può le lamentare la tripla di Murray l'errore rimbalzo di Grant questo era importante perché ora abbiamo le polveri un po' bagnate in questo fine terzo quarto inizio quarto quarto Poole è finito accoppiato contro Pennello se avesse una vaga una vaga idea di pallacanestro ce l'ha perché trova dentro Hollins contro Aieie si spazia arriva Pennello Pulicio Gnosa piano 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 guardalo guardalo come mi si arresta il centro dell'area come Dan Peterson bravo no Dan Peterson non è che si arrestava lui faceva insomma ci siamo avuti 39 pari 4 minuti quasi 5 alla fine della partita quello che assomiglia a Misic contro Hollins fino in fondo in 2 su di lui il granchio in qualche modo questo è un gran canestro purtroppo il granchio è poco protagonista perché che vuoi ci sono problemi e via Murray ancora sul blocco però Murray ti ha giocato per quell'attri stasera capisci e noi non ce lo possiamo permettere perché abbiamo già uno che gioca per quell'attri di default un altro quasi e se ci si mette anche Murray noi probabilmente si perderà Grant anche ma perché questo glielo fischi a noi no coinvolgiamolo anche il granchio in attacco perché guarda è cattivo ora non sarà però è cattivo è tornato Rudy Gobert che qui fa da sponda per Jamal Murray che attacca fino in fondo cambia mano con la mano sbagliata 2 di Jamal meno 1 mandiamo un aiuto lì sotto mandiamo un aiuto lì sotto lo vedete c'è uno che è il doppio di Poro Aieie che però è cattivissimo e recupera i palloni il giocatore tremendo che è Aieie Brazorf forza ragazzi ci sa il pallone del potenziale vantaggio e sa anche un quintetto accettabile il blocco dello stesso scetto su Murray che piglia e spara da tre niente niente ma c'è cettola qualunque 43-42 Murray Murray è in una serata lui ha sentito parlare di quello che manca per completare la Trimurti e ha detto ci penso io però c'è Aieie Brazorf che recupera ridagliela ridagliela qua su nell'angolo il granchio è cattivo è cattivissimo azzanna la partita vedi che ci vuole per vincere le partite no Wendel questi qui quelli ferrociti se uno è vincente capito è vincente se un altro invece è un'altra cosa che fa rima coente e poi lo rimettano in campo a 2.58 dalla fine della partita Rozier per Poole ancora per Van Damme noi ora sai quintetto sì quintetto titolare di fatto che non so se è particolarmente positiva come cosa questo lo battezza lui lo battezza a scelta grossa chi c'è che ti non posso neanche parlare ora gestiamo anche ragazzi non c'è bisogno di affrettare così tanto i tempi perché tutto sommato la panchina ci ha portato ad essere avanti Wiggins è da 3 punti è esiziale nei momenti hardine della partita più 7 un aiuto sul fondo un aiuto sul fondo ma se te lo chiamo non sei chiapato 15 punti dai power range vabbè 15 punti dai power range siamo avanti di 5 ultimi 2 minuti della partita si dà questi possessi speranzosi al gomito per Gobert come se sapesse di che fasene e invece c'è Wiggins che prova a vincere da solo grande pescata Wiggins onestamente grande pescata quella di Wiggins è il giocatore che per ora sta facendo di più la differenza siamo avanti di 6 manca un minuto e mezzo c'è Murray contro Pull si fa vedere Quickley che però non riceve gli porta un blocco step back di Murray non tira addirittura da San Giovanni in Persiceto da San Giovanni in Persiceto guarda che guarda che guarda che chi è questo non lo so Pull dimenticato da Treppo figurati figurati dai a provare se comunque le partite sono tutte così fino alla fine dell'anno io non credo di poter arrivare in fondo Murray arriva il blocco di Rudy Gobert vogliano giocare a 2 non sarebbe una cattivissima idea però occhio perché quello è mai ma che tiro era ma che tiro era ci fate caso che appena sono rientrati i titolari noi siamo avanti di 7 e ora questi hanno il possesso del pareggio ci fate caso a questa cosa qui per forza io sarò anche prevenuto per carità però stanotte è ritornato nell'NBA vera Banchero ha fatto schifo e Orlando giustamente va bene 52 pari Murray te hai giocato per quell'altra tutta la sera per cui se tu ci volessi degnare di giocare un'azione per noi forse ci basterebbe anche questa Jamal Murray dalla media timeout pacers ora io mi rendo conto che capisci andrebbe vinta in difesa vabbè Jordan Poole contro Jamal Murray esce dai blocchi power range che non riceve probabilmente Poole terrà il pallone fino alla fine ma non può arrivare fino alla fine perché c'è una discrepanza di un secondo un secondo e mezzo Rudy Gobert con l'ancata il colpo di stomaco anzi ora sarebbe importante questi tiri liberi Jamal Murray hai fatto schifo sodo eh io non ho permette di pressione ma hai fatto un solo canestro buono in tutta la partita dentro il primo avanti di tre secondo sarebbe ancora più importante perché ci darebbe il doppio possesso di vantaggio Jamal Murray 10 secondi dentro 5-6 5-2 loro hanno finito i timeout questa cosa mette bene ora giù con le mani non facciamo abbiamo vinto abbiamo vinto e è finita la cosa più positiva di tutte è che è finita eh se è comunque tirato i 47% da tre punti se è comunque avuto meno punti dalla panchina però vabbè il miglior realizzatore della partita quota 17 è un superlativo Andrew Wiggins nei rim grazie a Miles Starner che sei riuscito a non farmelo nominare e negli assist ce ne ma come negli assist 4 di Rudy Gobert ma che gioco è ma che ma due recuperi di Aieie ma due recuperi di Aieie che giocatore tremendo due stoppate di Rudy Gobert è finita se vinto basta allora allora la cosa buona è che avendo vinto si è preso 14 punti siamo arrivati a 58 e siamo secondi in classifica va bene quindi si sparigliano anche gli accoppiamenti settimana prossima si giocherà in casa contro Portland addirittura per provare a centrare il primato il problema è che Portland ha non solo il miglior realizzatore di torneo perché è arrivato a quota 5 come Gary Trent Jr ma è quello che è riuscito a battere per due settimane di fila il record di punti all time e ora svetta a quota 37 penso non lo so va bene non cambiano le altre teste di serie dal punto di vista individuale noi abbiamo il primo che è Jamal Murray che è a quota 6 poi abbiamo Shetto che è a 5 e Rudy Gobert e Patrick Betts siamo indietro rispetto a Frankenstein Frankenstein sta dominando quindi ora cambia però la questione perché essendo primo in classifica con le estrazioni si comincia da Portland due estrazioni dei nostri prossimi avversari Sun Slash non era tremendo non so chi terranno dei due se terranno qualcuno o meno penso di sì però poteva andare anche peggio visto è considerato tutto ora sta subito a noi che siamo secondi ne abbiamo tre te fai che io non peschi nessuno che possa somigliare a un'ala grande fai questo e non no purtroppo non gli assomiglia non è neanche marvagio però non gli assomiglia la vorpe la vorpe attenzione il problema ci sarà da prendere una decisione che è roba da chiodi però bene no ma anche questo è buono e è un'ala grande fermi tutti fermi tutti beh beh insomma direi che non è andata male ora poi dopo si fa un po' di ragionamenti tocca a Phoenix sono terzi finalmente in cladio finalmente perché almeno hanno quattro estrazioni forse pescheranno un silver forse non è un silver però è molto buono rientra proprio nella schiera di quelli che vogliano loro no 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 loro non li possono proprio prendere io vi giuro vi giuro che non sono truccate ma anche perché se fossero truccate abite bene mai io avrei preso jipe e cioppe no quindi questa è la ridimostrazione ultima che non sono truccate e loro non hanno bronze neanche a questo giro 5 estrazioni per indiana che già 5 silver silver volevo dire no sono stanco e questo è time lord time lord l'avrei voluto allora 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 loro un po' di gente devo dire l'hanno tenuta ma più che altro siamo noi ora che bisogna pigliare delle decisioni e anche importanti io vi dico la verità Kobe White non è male non è male però aieie è intoccabile quindi l'unico al posto del quale potrei pensare è il granchio però anche stasera ragazzi il granchio ha messo la tripla decisiva io io non non me la sento io mi dispiace perché Kobe White avrebbe meritato ma mi tengo il granchio invece invece e questa è una decisione che prendo io e invece le altre ve le faccio prendere a voi perché a questo punto io vi aprirò un bel sondaggio tra Quickley Murray e Fox chi volete eliminare perché secondo me 88 Fox merita di essere inserito nel sondaggio Quickley è stato uno dei migliori nelle ultime partite Murray sarebbe il cambio come ruolo quindi ce li metto tutte e tre e deciderete voi chi eliminare di conseguenza i due che non vengono eliminati vengono tenuti poi ci si aggiusta coi ruoli e poi io lo so io lo so però è d'altra parte io ve lo apro io ve lo so come andrà a finire lo so però Wendell Carter Jr. e Scottie Barnes io mi auguro che tu possa essere il salvatore ti dico la verità non ci spero però io ve lo apro il sondaggio appellandomi al lumicino del razio c'è speranza e questo va bene settimana prossima si cambiano finalmente gli accoppiamenti e quindi giocheremo contro Portland addirittura per il primato e poi come vedete qui c'è una riga c'è una riga grigia che vuol dire una riga grigia a metà del secondo girone che settimana prossima ci sarà sì la quindicesima giornata ma quella dopo non ci sarà la sedicesima bensì il quasi all star gaming tutti qui settimana prossima perché vi do il link per votare i migliori all time proprio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti